Ciao ragazzi! Oggi comincia una piccola serie di video che voglio dedicare ai Promessi Sposi. No, vi prego, non scappate. Lo so che quando a scuola si sente parlare e si sente solo accennare al titolo dei Promessi Sposi, gli alunni fuggono, anche perché la cosa che si pensa sempre è che i Promessi Sposi siano un'opera vecchia. Racconta una storia di secoli fa, Alessandro Manzoni è uno scrittore dell'Ottocento, è una cosa vecchissima, non ha nulla a che fare con l'attualità ed è assurdo che ce la facciano studiare. E invece no, nel senso che in queste serie di video intendo proprio dimostrarvi come alcune tematiche che sono trattate nei Promessi Sposi sono invece delle tematiche estremamente, ma proprio estremamente attuali, nel senso che sono quelle di cui parliamo tutti i giorni nel nostro mondo normale. E quindi imparare a leggere questo libro e anche riflettere su quello che Manzoni ci racconta può essere un buon modo per capire come la letteratura e la vita spesso sono esattamente la stessa cosa. Da dove partiamo? Beh, da quello che può sembrare una cosa molto strana, ma esattamente di che cosa parlano i Promessi Sposi? Sì, certo, sono la storia di due che si vogliono sposare nel 600. Beh, non è proprio così. I Promessi Sposi, tanto per cominciare, sono la storia di una ragazza che subisce delle molestie sessuali. Proprio così. Anche se molto spesso, quando si legge la trama del libro, soprattutto nei libri scolastici, diciamo così, c'è una grossa ipocrisia a raccontare questa cosa nella trama. Si dice sempre che Don Rodrigo importuna Lucia che forse si è incapricciato di lei? Ma diciamola con un linguaggio moderno. Don Rodrigo sta molestando la povera Lucia. Don Rodrigo è il signore del paese ed è convinto che Lucia sia un oggetto. Un oggetto che è in suo potere, perché è una povera contadina del suo paese e quindi letteralmente vuole costringerla a starci. E la povera Lucia? Invece no. Lucia è una donna che denuncia. È l'unica nel romanzo che ha questo enorme coraggio. Dice di no, lo dice anche proprio decisamente e per tutto il romanzo cerca di sottrarsi alle indesideratissime attenzioni di Don Rodrigo. In pratica quindi potremmo dire che Lucia è una parelladina del Me Too? Eh, direi proprio di sì. E questo personaggio che spesso ci viene raccontato come una ragazzetta un po' slavata e non dotata di grandissimo carattere, alla fine quando si va a analizzare il suo modo di reagire è un modo di reagire estremamente moderno. Lucia è una donna che tutto sommato anche nel Seicento è conscia dei suoi diritti. Si rende conto che non è giusto che un uomo la importuni, che non è giusto che dia per scontato che lei sia costretta a starci per avere una vita normale e si incaponisce e gli dice di no e resiste fino alla fine. Quindi tutto sommato lo so che fa ridere ma da questo punto di vista anche la tematica scelta da Manzoni è estremamente moderna, se ci pensiamo. La nostra Lucia alla fine può essere davvero una parellina del Me Too e noi tutte forse dovremmo imparare qualcosa da lei. Spero che questa pillola vi sia piaciuta, se vi è piaciuta ditemelo nei commenti, questa dovrebbe essere l'inizio di una piccola serie appunto dedicata ai Promessi Sposi e i loro riflessi con l'attualità. Quindi se vi piace questo genere di idea fatemelo sapere e seguite sempre il mio canale YouTube iscrivendovi. Ciao a tutti!